Arrivano le prime sorprese nel concorso del re della pizza. Domani su Libertà troverete al posto del normale coupon da un punto un tagliando speciale del valore di 5 punti. Compilandolo con i dati richiesti contribuirete ad incrementare il punteggio del vostro concorrente preferito e potrete partecipare all'estrazione finale che vedrà vincitori 5 fortunati lettori che avranno riempito gli appositi spazi con tutti i dettagli richiesti. Non sarà però il solo aiuto che vi verrà concesso durante il corso del gioco perché altri punti bonus e altri tagliandi speciali potrebbero essere pubblicati sulle pagine del giornale. Continuate a seguire il concorso per aggiornamenti, curiosità, notizie e per scoprire dove poter gustare la pizza più buona di Piacenza.